ciao luigi sto arrivando metti la carne in forno ciao a tutti i ragazzi il cinquantesimo video di pillole siamo a bari se non avete capito è dedicato alla pasquetta non so se vi ricordate l'anno scorso la pillola di pasquetta è andato benissimo quest'anno abbiamo tutte le carte in regola per superarci abbiamo fatto la spesa abbiamo organizzato la grigliata abbiamo organizzato la bevuta abbiamo organizzato i giochi stiamo cercando dei giochi per la festa avevamo tutto in mente giuro siamo entrati in questo posto ci ricordiamo più cosa dobbiamo comprare praticamente non abbiamo comprato niente però abbiamo preso il megaforo a tutti i bitrittesi la processione è rinviata vabbè casquetta è uno stato d'animo ragazzi si mangia? ehi vado sempre al bar stai qualsiasi cosa voi fate è registrata la pillola la pillola non è mai presa è tutto sanduco ho visto la salsiccia tutto finito tutto buonissimo può partire così e Grazie a tutti. 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 E mettete sempre la cintura.